Che fosse necessario un intervento drastico per arginare la diffusione del Covid è fuori discussione, i numeri sono veramente inquietanti, nel giro di pochissime settimane il sistema sanitario potrebbe di nuovo esplodere, non ci si può arrivare. Bisogna dunque intervenire e bere la marocalice ma risparmiateci per favore i sensi di colpa, francamente i predicozzi delle istituzioni non ne possiamo più perché se responsabilità ci sono, sono diffuse e condivise e molte sono sulle spalle delle istituzioni che hanno sprecato i mesi estivi quando bisognava fare molti tamponi per individuare i focolai e bloccarli e spegnerli sul nascere, quando si doveva potenziare il trasporto pubblico locale per evitare di avere gli autobus stracolmi all'inizio della scuola, quando si doveva fare tante cose che non sono state fatte e adesso il fallimento di sistema emerge in tutta la sua chiarezza. Si chiuda, va bene, ma si ristori, si ristori con tempi strettissimi e con soldi veri, non con la favoletta dei prestiti garantiti, si ristori chi è costretto a chiudere perché la situazione è molto grave, i nervi sono tesi e quando i nervi sono tesi si trova sempre poi un cretino o peggio un farabutto che sa incanalare la tensione e la rabbia in qualcos'altro, Dio ce ne scampi, quindi bisogna subito intervenire con soldi veri per ristorare chi sta chiudendo.